Seconda sconfitta in campionato per la Turris che cede sotto i colpi del potenza trascinato dalle reti di Cianci. Nessun alibi per la squadra di Mister Fabiano che pur giocando a viso aperto non è riuscita a capitalizzare le poche occasioni create. Nel primo tempo, nonostante i primi 20 minuti di sofferenza, la Turris riesce a concedere poco anche grazie a un'ottima prestazione dei centrali difensivi. Secondo tempo opaco per i biancorossi che faticano ad accendersi in zona gol e subiscono la leda del vantaggio avversaria al 56esimo. Al 75esimo, Reinone commette fallo in area di rigore. Dal dischetto, Cianci firma il raddoppio per il potenza. Sconfitta da metabolizzare in fretta per i torresi che a mercoledì affronteranno il Foggio in trasferta. Nel post partita si è espresso anche il presidente Colantonio che si dice tranquillo nonostante la sconfitta, consapevole del fatto che una squadra intenta a salvarsi possa avere alti e bassi. Il padron Corallino si è detto però preoccupato per la questione legata alla nuova convenzione per la gestione dello Stato Liguri. Ad oggi ci è stata proposta una convenzione di un anno in cui non solo dobbiamo sborsare una cifra di 40.000 euro, ma dobbiamo farci carico anche di tutte le spese che nella normalità aspetterebbero al Comune. Queste le parole di Colantonio, che in un'annata condizionata dagli Stati chiusi reclama collaborazione da parte del Comune, ricordando però che ad oggi non accetterà la nuova convenzione. Alle dichiarazioni del numero 1 Corallino seguono in queste ore quelle del sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba, che risponde con fermezza e si dice perplesso riguardo le preoccupazioni espresse da Colantonio. Mi corre l'obbligo di ricordare e precisare che per ben due volte il presidente è stato invitato ed ha partecipato al Palazzo di Città ad incontri per discutere con l'amministrazione e con i tecnici comunali le modalità e le caratteristiche che hanno portato alla stesura dell'atto di convenzione con la possibilità di esprimere anche le proprie idee. Il sindaco ha ribadito inoltre che l'attuale amministrazione è l'unica che negli ultimi 30 anni è investito concretamente nella riqualificazione dello stadio.